Musica Allora ciao ciao, sentimi bene è una cosa vecchia che si mette nel videoregistratore UHS, videocassetta Nonno, citro, videocassetta Sei giusto, videocassetta L'ha detto dall'inizio L'ha detto Il nonno No, ho detto UHS Mamma mia, cosa viene venuto fuori Allora, non è una somma non è una multiplazione e non è una sottrazione Divisione No, stavo scherzando No, stavo scherzando Cangella tu Cangella tu Allora, non è una somma Avevo letto Facebook Non è una somma Non è una moltiplicazione e non è una divisione Eh, è una sottrazione Oh, dettate Ah, meno sottrazione Meno sottrazione Sottrazione un po' meno Un po' meno della sottrazione Tipo, la sottrazione è anche detta C'è un numero maggiore C'è un numero Aspetta Minore Minoanza No Minoanza Minoanza La parola si ha Amminoacidi L'ha avuto lì Tipo, se un numero è alto e un numero è basso vuol dire che hanno una grande Ah, lo so Dislivenio 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 No È il livello più semattico Ah, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ah, cazzo Cazzo La parola si ha La parola è cacofonia Aspetta, no, no, ce l'ho Ce l'ho, ce l'ho La La parola è Depestivo Mamma mia se ce l'ho Ma, scusa, allora Se un numero non so è 10 Eh Allora, è 10 Eh, bello Un altro numero è 9 L'uno è la loro Scossa Scossa Difenza Aspetta, aspetta, aspetta No, no, non è questa la parola Ho perso 14 anni di vita Per sapere di sperimenti Allora, prenda Adesso sai che Hai detto la parola, no? Io non la posso dire Difenza Umberto l'ha già dimenticata Scrivite, la ti prego Però, la parola finale La parola finale è formata Da questa parola qui Che hai detto Ah, che parola Più un'altra Difenziata Che parola Eh, più? Difenziata Più un'altra Più un'altra Più Cioè, è formata due parole La prima che è quella che hai detto tu E poi c'era un'altra attaccata Mamma mia Ed è in ambito Automobilistico Allora no Ah, cazzo Dai cazzo Perché ti fospito ogni giorno Ti è Umberto E che cazzo c'entra E come un maiale Allora, aspetta Aspetta È formata È formata La parola è formata La parola che hai detto E la parola Diferenziazione Ah, ah Ah, ah, ah Ah Diferenziato No No Ma che cazzo Finisce 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 con un articolo La parola Ah, aspetta Inolabile Difenziata Difenziabile Allora, avevi detto Sto soffrendo Prima Avevi detto un'altra parola Difenziata Senta che già ciò svenga Prima di Cioè, aspetta Ok Prendi questa parola Ci serve un altro player Togli qualche lettera E aggiungi Un Diferenziata Un articolo No, un articolo Che cazzo è l'articolo? Non fai L'articolo di banane Qual è? Sì? Di banane L'articolo che va davanti a banane Eh, banane È di banane Diferenziale Cambio di differenziale Sì, differenziale I banane Diferenziale Diferenziale I banane Sono andato a prendere Un banane Ti tocca Mamma mia Mamma mia Allora Si dice che uno è sordo come una Capra Sordo come una capra Che cacchio vuol dire Sordo come una capra Ma che cazzo è Scusate Dai Per quello hanno il campanello Al pecc percorso Sordo come una Sordo come una Eh, mi hai sentito sto Ma una mosca Ma una mosca Ma una mosca non è sordo poi È caduto per te nella pallina Sordo Allora Allora Dai, fai qualcosa di semplice Non stai cazzo Allora Allora Sicuramente non c'è Che mi viene in mente Può esserci Ce n'è una In ambito religioso E E E Mette un'onomatopea Perché non posso dire Nanta parola Non è quella Che cazzo è sordo come Sordo come una Una foglia Sordo come Che cazzo Sordo come una suora Che cazzo Una suora No È un oggetto È un oggetto È un oggetto E c'è anche Un battocchio Che cos'è che ha Il battocchio Che cazzo è google Ho il battocchio Ho il battacchio Che cazzo è che si chiama Sordo come una Presente in ambito religioso Cia sto cazzo di robo Che penzola Che cazzo è Non dire il prete Perché si è venuto Un po' Che cos'è che può essere Dai è perso Mi viene in mente Hai perso E metto un verso Hai perso Basta Perso basta Mi dispiace Già due Sordo come una bucca Sordo come una capra Sordo come un masino Dai dillo Una campana Ma porca miseria Se si tumbano Dovevi dire C'è un ambito religioso In ambito Aeroportuale Cazzo non la sapevo neanche io Che c'era l'aria In ambito aeroportuale Ma porca miseria Cazzo Sordo come una capra Dopo mi chiedo Con chi è che sto giocando Ma oh senti Sordo come una mosca Ma vai a far Sordo come una mosca Ma sarai tu Sordo come una mosca Senti Guarda quello che non riesci Non viene a fare le facce Dai dai Sordo come una mosca Dai Vuoi farmi la tua faccia Se è che non sai spiegarti Ma come lo so Oddio Mi viene a me Non so perché E' venuto sordo come una capra Allora Un uomo e una donna Ok Uppano E fillano Fanno Fanno Certe cose Ok Sapevo io Però si mettono In un certo modo E quel certo modo E vabbè Umberto Poi Incappa sotto In un'altra parte Però Per favore 69 Ah no C'entra Come c'è la parola È 72 C'entra Cosa Dov'è Dov'è Come dov'è Aia Qua si va sulle cose porn In un libro Eh appunto Come cazzo si chiama Il Kamasutra Eh esatto Lo hai dominato sul serio Sì Kamasutra Ma non ci posso credere Mamma mia Ti faccio lo screen Bam Oh qualcosa di facile Mi dicono Allora Allora Eh Ci passano un po' tutti Ehm Non è qualcosa di Materiale Dolori Aspetta Ho le mie cose È uno È uno stato È uno stato È uno stato d'animo Triste Tristezza Ah la pallina Ah ecco È uno stato d'animo Che può essere Damino Che può essere O non può essere Condiviso Damino Ci spera che tutti Siano defrecci Allora Facciamo più facile Così capisci subito E non mi rompo il cazzo Questa cosa Questa Questo stato d'animo È tra due persone Ah Quindi così cazzo No corna Dai Dai Eh Felicità Mark Può essere O non può essere Condiviso È tra due persone Matrimonio È uno stato d'animo Cazzo È una parola facilissima Madonna Come te lo spiego Eh Scusa No vabbè No sto zitto Parla al metodo Chacha Oddio Come te lo spiego Se non lo capisci così Tipo Pesca Anch'io pesca Ah ecco Ah cazzo Perché Ancora matata Merda Eh Ci si può star male Basta Ci si può star Cosa Ci si può star male Per questa cosa Se non Se non è corrisposta Amore Oh Dio grazie Finalmente Ce ne è stata Oh my god All'imite dicevi Amo No Scusa Scusa Dammi tre parole Suore cuore Suore cuore Suore Suore Dai Dai Amanti Suore I soldi Eh Porco Nell'antichità C'erano dei soldati Dei tipi di soldati Lanceri Lanceri No taci Sta zitto Taci Sta zitto Cato Puoi parlare C'erano i cosiddetti soldati di Cavalleria Cavalleria Io assolutamente no L'ho capita L'ho capita Allora diciamo una cosa C'è la canzone che fa Non sarà Una Avventura Quindi sono La parola è Avventurier No Non sarà Una Una Non sarà Una Av L'hai detto prima Av Av Avventura Devi togliere qualche lettera Avventura Avventura No Avventura Avventura La lettera Togli la sinistra E' l'idea che ha random Per drammatizzare un po' la situazione Ridiamo Allora Andiamo a perdere il tempo Ridiamo Mettete i like Allora E di Ricominciamo Ricominciamo Quando mai perdi 8000 Avventura C C E Ci poteva tanto Madonna C'è nel senso Foglio a spiegarti sta cosa Dai Porco Allora Tu hai unito i tecnici E Qua ci siamo arrivati Hai mai fatto Elettronica No Porco Buongiorno Siamo noi In alto mare No Non l'ho mai fatto 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 Non è che è Bene Bene No papà No In un momento Non posso risponderti Allora Lo usano Al di sommozzatori Per controllare Se è presente Qualcosa sul fondale marino E non è Non so E non è cosa Stai zitto E non è Non è radar E' una porcata Cazzo Non mi ricordo come si chiama Non è quello che Si è quello Si Non mi ricordo come si chiama E' quello che Riflette le onde Tipo No No Cosa vuoi dire Esiste elettronica Oppure esiste in ambito fisico Quindi Ho capito Cerca di farmelo capire In un altro modo No Passo Come passi No non passi Che cazzo Come fai a sapere Oscilloscopio Dai Ok passo Ok passo Vengono fuori Labrador No cos'è Che sei uscito là Indiana Jones Indiana Jones Indiana Jones Se hanno uscito lo scopo Come fa culo No pensavo che fosse sonar Tipo Allora Ehm Vabbè Non è Estate Non è primavera E' inverno E' inverno Yeah Mamma mia che fai No non è inverno Non è inverno No è sbagliato Inverno E' invena No si è giusto Si fa umberto ogni sera Invena Si fa umberto ogni volta che entra in canale E' inverno 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 Dai facciamo Ok Ah Cia cia Match point Tu lo usi Si usa tutti i giorni Quarti No aspetta Per River Si usa tutti i giorni Per nutrirsi Ah squad house Porchetta No Però Molto Cucchiaio No Pinze Prima Prima Del cucchiaio Della porchetta Cucchiaietto Un cucchiaino Non lo so E' coltello No Cioè tu Prima di usare delle posate Cos'è che fai? Bevo Piatto Prima Di impiattare Cosa che fai? Servo Servire Pranzo Cera Bevo e servire Mi lavo le mani Dai Anche io lo stavo per dire Mamma mia se lo stavo per dire Ma tu Aspetta Mamma mia se lo stavo per dire Ho appetito Scolo La pasta mangi cruda Scolo Cuocere Cuocere Eh Con cosa tu Pentole Pentola Dov'è che metti quella cosa? Forno Gas Fornelli Ah Eh sì 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 Mamma mia Fornello Fornellio Ah venito E vinciamo No parole Fornelli